33 comuni tra la provincia di Avellino e Benevento sono senza acqua. La sospensione dell'erogazione idrica è la conseguenza della rottura di una condotta adduttrice da 800 mm ubicata nel territorio di Castelfranci. Immediatamente, come fanno sapere dall'alto calore, i tecnici sono giunti sul posto ed hanno avviato tutti gli interventi necessari per ripristinare nel più breve tempo possibile il guasto. Stanno lavorando ininterrottamente per porre fine ai disagi dovuti dalla sospensione dell'erogazione idrica. Dall'azienda di Corso Europa assicurano che si lavorerà per tutta la notte e una volta concluso l'intervento il ripristino è previsto per la mattinata di domani quando i tecnici avranno concluso tutte le manovre per far riempire di nuovo la conduttura. I comuni interessati sono Ariano Irpino, comprese le zone dell'ospedale e della casa circondariale, Grotta Minarda, Torella dei Lombardi, Lioni, Bonito, Melito Irpino, Monte Calvo, Villanova del Battista, Savignano Irpino, Greci, Gesualdo, Villa Maina, Fontana Rosa, Mirabella, Sturno, Flumeri e Zonasi, Valle Saccarda, Scampitella, Castelfranci, Paternopoli, Luogosano, Taurasi, Sant'Angelo all'Esca. Per quanto riguarda la provincia di Benevento i comuni interessati sono Apice, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco, Sannita, Pagoveiano, Reino, Campolattaro, Casalduni, compresa la zona stira e Fragneto, Monforte.